All right, nuovo gameplay, siamo stati autofillati top, siamo un umilissimo OTP Mastery e quando prendo Nasus in genere va male, speriamo di scalare, di portare la vittoria a casa in qualche modo. Contro la tipa preferisco lo scudo alle pozioni. Devo fare di tutto per mettere 400 stack subito nei primi 20 minuti e sarà l'unico modo che ho. Cerchiamo di fare immediatamente la prima stack. Molto fastidioso Nasus all'inizio. Ok, riparo lo slot. A posto. Sapevo fosse una cazzata ma l'ho fatta comunque. Devo riuscire a togliermi questa cosa dalla testa quando sai che è una cazzata ma la fai comunque. Te prego, carretto. Per fortuna Camilla. Camilla non ha preso kill. Io non ho sprecato summoner. Camilla non ho sprecato. Camilla non ho sprecato. Allora abbiamo i soldi giusti giusti per uno di questi Non so perché Shaco si è fatto spostare gratis senza concludere nulla Partiamo di Frozen, non so altrimenti cosa fare contro quella tipa L'altro furbo mi ha pushato la lane Ed è anche morto mid, a gratis Oh, peccato, adesso l'ho sprecato mana Fantastico Grazie andiamo a full cooldown reduction all'inizio così ogni 5 secondi possiamo fare una stack peccato per il farm imbarazzante ok ok prendiamo una piantina ok 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 ora dobbiamo la possibilità di mettere su veramente un sacco di stack ok 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 no posso rimanere sì ok 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 gold su nasus non facciamo più danni no 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 Ok, ora siamo Con 50% cooldown Nella nostra Q Si è dimezzata ogni 2 secondi Belli questi danni pure Ok Oh dai fammi farmare Nasus Killing screen An enemy has been slain Ok 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 Ok, adesso abbiamo queste E quindi il danno inizierà A farsi sentire Che spam pingono? Non lo so No, 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 no Bonk Double bonk Watch Shhh Ora siamo proprio dei giga chad Sì 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 Se solo avessi farmato di più Sì 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 Grazie a tutti. Peccato non posso cessare. Non ho mana. Non so perché sia rimasto il tipo, ma va bene. Cioè abbiamo tutte le torri, lasciarne una. No. 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 Grande errore buttare quel carro in questo modo. Bárbaro. No. Neado. La mia Ok Camille mi distrugge Melo stop blue buff No trash non mi fare ste cose Ok Stiamo avendo un impatto molto grosso sulla partita devo dire eh Ok Ok Noll Sì ASMR Oh cazzo Legendary G.K.Chad Nasus Sto letteralmente carriando Lo penso una guardian angel me la farò Sono un naso sfifone Buono Eccolo Camille Non mi hanno lasciato il carro Eccolo No Eccolo Grazie a tutti. Non perdo mai il focus e continuo a farmare. Legendary. Meritatissima. GG Nasus solo Q. Una V9 letteralmente, sì. Un R0. Shaco. Per avermi dato un po' di early gank. Super key di A, guys. GG. Spanniamo il Twitch. Tutto sto casino per avere solo 19 LPI. I add you. All right. GGFR. Welcome between my friends. All right. All right. All right. All right. All right. Grazie a tutti